Nessun attacco dall'esterno. Potrebbe essere l'interno, la maggioranza di centro-sinistra che a giugno ha conquistato Palazzo Moroni, a riservare le sorprese più amare in Consiglio Comunale al Sindaco Sergio Giordani. Dopo mesi di attese e tentennamenti, il primo cittadino ha ceduto. La data fatidica dovrebbe essere quella di lunedì 9 aprile. L'ospedale arriva nel parlamentino di Palazzo Moroni e di sicuro voterà sì la minoranza. Finalmente l'ospedale di Padova ha atteso troppo tempo, questa amministrazione ha perso tanto troppo tempo, la salute dei padovani per noi viene prima di tutto. Ora andiamo avanti e noi voteremo questo prevedimento e anzi sono curiosa di vedere come si comporterà l'attuale maggioranza che è spaccata su molti temi e pare anche in questo. Insomma, peggio gli amici che i nemici? Si vedrà. Intanto resta il problema di un Consiglio Comunale dove poco si parlerebbe dei veri problemi della città. Un Consiglio Comunale vuoto e svuotato nel suo prestigio e nel suo ruolo. Non ci sono delibere che permettono un dibattito sui reali temi della città ma mozioni anche molto diverse tra di loro con una parte della maggioranza che continua a depositare emozioni che nulla hanno a che vedere con la città e con i problemi dei cittadini padovani.